Bene, grazie, buongiorno a tutti, sono Alessandro Stecco e presiedo la Commissione Sanità del Consiglio regionale, ringrazio il Presidente del Consiglio regionale all'Asia per aver accettato questa e con grande interesse e anche tutti gli uffici del Consiglio regionale, in questa iniziativa che ho condiviso con i Vice Presidenti, quindi con l'Ufficio di Presidenza della Commissione e di cui abbiamo anche notificato e avvisato anche i commissari che rappresentiamo in questa sede, che è quella di dare una corretta informazione da parte di due esperti, in questo caso sul tema del vaccino, perché abbiamo questo appuntamento oggi e perché ci troviamo con degli esperti a spiegare il vaccino, perché è importantissimo il ruolo dell'informazione, è importantissimo informare correttamente e se siamo in un momento molto particolare dopo quasi un anno che il Covid e il coronavirus ci hanno messo all'angolo, la nostra società ci ha messo in difficoltà seria come cittadini, come istituzioni a tutti i livelli, ora è il momento in cui anche calcisticamente usciamo e ci riversiamo nell'area di rigore, avversaria perché abbiamo degli strumenti per poterlo fare e che sono quelli della scienza e della conoscenza che vanno sempre, è un binomio che va sempre insieme e la scienza è scesa in campo, è scesa in campo con in pochissimo tempo riuscita a elaborare una risposta vaccinale con diversi tipologie di vaccini che stanno entrando proprio oltre al primo che è già in utilizzo, con farmaci che si stanno evolvendo, ecco questo è il momento in cui ci riprendiamo la nostra società, ci riprendiamo i nostri spazi, ridiamo alle persone, i loro affetti, la possibilità di incontrarsi, di ritornare ad aprire le loro attività e questo lo potremmo fare solo se aderiremo e se faremo tutti quello che dobbiamo fare, cioè cercare di ridurre al massimo la circolazione del virus e per farlo dobbiamo avere un numero più alto possibile di persone, di cittadini che si vaccinano, questo avverrà secondo diversi step ma è già in corso e quindi quello che oggi faremo è tramite il professor Di Perri e il dottor Guido Giustetto avere un'informazione da due punti di vista, dal punto di vista dell'esperto anche scientifico nell'ambito delle malattie infettive e dall'altra parte chi rappresenta anche, è stato medico di famiglia ma anche rappresenta i medici, tutti i medici come Presidente dell'Ordine dei Medici, che hanno classicamente la conoscenza del rapporto e della comunicazione per esempio con il cittadino o col proprio paziente. Questo lo affrontiamo quindi con due interventi e poi con un botta e risposta sulle domande più frequenti, quindi grazie, grazie a tutti per essere qua, grazie ai relatori, grazie alle istituzioni, ringrazio anche per i saluti del Presidente e dell'Assessore e a questo punto darei la parola ai Vice Presidenti della Commissione Domenico Rossi e Andrea Cane. Prego Vice Presidente Rossi.